Ben tornati ad una nuova edizione di Quotidiano TV del 3 dicembre. Iniziamo con la cronaca regionale. Spintoni, calci e pugni contro un uomo di 32 anni da parte di 4 moratori in via Casale a Milano. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 15.30 e il motivo di questa lite era per il solo fatto che il 32enne ha la pelle scura. Ad intervenire l'amico della vittima che ha chiamato immediatamente polizia ed ambulanza. Gli agenti della volante ascoltano i testimoni e prendono i nomi dei moratori che vengono indicati come aggressori. Una 19enne albanese è stata accoltellata a inviagare una attraversa di via Washington a Milano nel tardo pomeriggio di lunedì 1 dicembre. A quanto riferito dalle forze dell'ordine intervenute, la ragazza era appena uscita da scuola guida intorno alle 19 quando un uomo l'ha colpita con un fendente ad un fianco. Nulla le è stato rubato e poi il malvivente è fuggito. La vittima si è poi recata a casa dove è stata portata alla clinica San Giuseppe e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia del locale indaga sull'accaduto. Un attacco di Canuova per rapinare le persone, non a mano armata ma a morsi. Vittime preferite le persone che stanno per strada con il cellulare all'orecchio intente parlare. L'ultimo episodio che è costato l'arresto all'azzannatore folle è accaduto l'altro pomeriggio in via Voltri a Milano poco prima delle 16.30. Un marocchino di 35 anni regolare camminando tranquillamente sul marciapiete parla al cellulare e si è vicino a un connazionale che con una mossa rapida gli afferra la mano e la morte. Il dolore lancinante obbliga il malcapitato a lasciare cadere il telefonino e mentre la vittima si lamenta per il dolore il rapinatore fugge a piedi con il subottino preferito. Stavolta però è stato fermato. In vista del Natale sono stati sequestrati oltre i 100.000 giocattoli fuori legge. Pile che si sciolgono dentro nella plastica, giocattoli potenzialmente allergenici e con coloranti vietati, pelusce, bolle di sapone, automobiline, palle, freccette luminose. Dalla bancarella del mercato risalendo fino al grossista, in questi giorni di preparativi per il Natale, la polizia locale ha sequestrato oltre i 100.000 giochi fuori legge, 30 milioni di braccialetti elastici taroccati, 6.000 cavi elettrici luminari non a norma e 1.500 fuochi artificiali. Il bilancio è stato illustrato martedì dall'assessore alla sicurezza e coesione sociale Marco Granelli e dal capo di gabinetto della polizia locale Antonio Barbato. L'invito dagli esperti è allertarsi quando un gioco costa troppo poco, spiega Stefano Quercetti, presidente di Asso Giocattoli. Per verificare la pericolosità di un gioco, esiste da tempo un motore di ricerca europeo, il RAPEX, raggiungibile a tutti via internet dal sito del Ministero per la Salute. La vendita abusiva dei prodotti contraffati è un reato che la polizia locale persegue in modo costante. In particolare, ci teniamo a ribadirlo all'avvicinarsi di Natale, nel caso di giocattoli è importante porre particolare attenzione. Il giocattolo contraffatto o privo di marchi non dà garanzie di sicurezza, dichiara l'assessore Marco Granelli. Passiamo alla cronaca cremasca e cremonese. Sfiorano i 100.000 euro gli insoluti del servizio mensa scolastica relative all'annata 2013-2014 a Crema. Il conto salatissimo che il Comune dovrà saldare all'azienda che ha in appalto la fornitura pasti ai bimbi delle scuole d'obbligo cittadine è sostanzialmente in linea con quello dell'anno scorso. Come prevede il contratto in estere, a fronte dei mancati pagamenti da parte dei genitori, l'ente locale deve comunque garantire l'incasso alla società privata. Per entrare da questa spesa non di poco conto, l'ente locale dovrà dare il via alla campagna di solleciti nei confronti delle famiglie che non hanno pagato il dovuto. Alla prossima multa per irregolarità nelle affissioni pubblicitarie o nelle iniziative promozionali, i commercianti di Crema non potranno più accampare scuse. Il Comune ha pubblicato sul proprio portale internet due documenti che chiariscono nei dettagli quando è possibile effettuare sconti e liquidazioni. Gli opuscoli sono a disposizione nelle associazioni di categoria con le quali sono state concordate entrambe le iniziative e verranno anche inviate per postare elettronica agli esercenti. Ieri mattina nel quartiere di Ombriano a Crema blitz dei militari cremonesi di Casa Pound per rinviare lo sfratto nei confronti di un cittadino italiano. Dopo una breve trattativa con l'ufficio giudiziario l'esecuzione è stata rinviata a gennaio 2015. Siamo qui, dichiara Gianluca Galli, responsabile provinciale del movimento, per aiutare un italiano che rischia lo sfratto in una situazione di morosità incolpevole ma anche per sensibilizzare le istituzioni sulla questione degli italiani in emergenza abitativa. Sistema Tupassi, servizio ideato da MiroPass SRL. Vediamo di cosa si tratta. Niente più code o almeno basta con le infinite processioni davanti alle porte degli uffici senza la certezza di essere ricevuti a colloquio. Questo all'immediato futuro grazie all'adozione del sistema Tupassi, di servizio ideato da MiroPass per la gestione dei flussi d'accesso ai servizi di sportello. Tupassi libera la sala preordinando l'orario d'arrivo delle persone presso il servizio. Il sistema è diviso in due componenti, un motore di ricerca e un sistema dipartimentale. Il primo consisterà in un sito web Tupassi non ancora attivato su cui verranno convogliate le richieste d'appuntamento. Il secondo, distribuito alle aziende che erogano il servizio, permetterà di creare delle agende per le prenotazioni. Il sistema genererà un biglietto elimina code che permetterà di fare il check-in una volta giunti all'appuntamento, a modi convalida della richiesta. Vogliamo iniziare a installarlo presso il nostro URP, ha commentato il sindaco Stefania Bonaldi, e testare le funzionalità del servizio che entrerà in funzione a partire dai primi mesi del 2015. Trattiamo ora la cronaca bergamasca. Un principio d'incendio alle batterie del gruppo di continuita elettrica ha fatto scattare l'allarme nel pomeriggio di martedì all'ospedale di Terviglio. Tutto è avvenuto nella zona della piastra a servizi a partire dalle 14.30, quando l'allarme è scattato alla portineria che funge da centrale operativa per gli allarmi. Il personale medico ha dato immediatamente l'allarme a vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o contuso. Fino al 20% di sconto per i pendolari che per lavoro usano la nuova autostrada Brebemi a partire dal 2015. La società ha comunicato di essere stata autorizzata da Cale e S.P.A. ad aderire all'iniziativa lanciata a febbraio dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in accordo con l'Escat. Per godere di questa agevolazione basta indicare il casello di entrata o di scita per una distanza che non deve superare i 50 km. L'Associazione Trasporti e l'Associazione Autotrasporti Viaggiatori Lombardia denunciano una situazione di instabilità nel forturo del trasporto pubblico locale a seguito della previsione di bilancio che la Giunta della Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi. La previsione rivela, scrivono le due associazioni, che a partire dal 2015 un ulteriore etario delle risorse destinate al trasporto pubblico locale sarà pari a 155 milioni di euro. La città alta viene chiusa per le feste natalizie, ma c'è un'alternativa per i veicoli. ATB lancia anche quest'anno diverse iniziative in collaborazione con il Comune di Bergamo per favorire ed incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico durante le festività natalizie, dato che chiuderanno al traffico di città alta. A partire dal 6 dicembre, oltre al consueto biglietto promozionale natalizio al trenino turistico Gulliver, c'è pure una novità. Il collegamento con una vera e propria linea tra il parcheggio della Croce Rossa di Loreto e Colle Aperto. Si tratta di una linea attiva nei giorni festivi, dal 7 al 21 dicembre, dalle 10 alle 19, con una frequenza di un autobus ogni 15 minuti. Per utilizzare la linea sarà necessario comprare il biglietto, una zona o quello per un numero di zone superiore, se si proviene da fuori città. In alternativa, si potrà acquistare a bordo da personale ATB, disponibile anche alla promozione delle iniziative natalizie che si svolgeranno in città alta, il biglietto natalizio di euro 2,50, valido per la zona urbana, e il biglietto turistico 24 ore di 5 euro, valido per l'intera rete. Veniamo infine alla cronaca lodigiana. Tangenziale di Codogno. La provincia informa che in dato e derna sono iniziati i lavori di completamento del sottopasso della Maiocca, necessari per risolvere le problematiche geologiche impreviste e rivenute durante la realizzazione dell'opera. Tale opere aggentive comportano una spesa di circa 150 mila euro e sono finanziate grazie ad economie di spesa realizzate a chiusura di altre opere o pubbliche. Risolto in poche ore, il caso dell'operaio rapinato e picchiato all'alba di domenica sulla paullese. Ad aggredire il giovane è stato un transensuale brasiliano con il quale il giovane si era appartato. Lo straniero, un tretotenne pregiudicato residente a Peschiera, è stato arrestato dai carabinieri di Paullo e dichiarato in stato di fermo per lesioni e rapine in concorso con un connazionale, anche quest'ultimo tuttora ricercato, ma comunque identificato dai carabinieri. I negozi del centro storico di Lodi sono nel mirino dei ladri. Vediamo il servizio. Allarme per i negozi del centro. Nella notte fra sabato e domenica, così come nel weekend precedente, i ladri hanno tentato di prendere d'assalto le boutique della città di Lodi. Questa volta è toccato ad un punto vendita in Corso Roma e al negozio d'abbigliamento in Corso Vittorio Emanuele. I ladri sono riusciti a scardinare la serratura, ma in entrambi i casi non sono riusciti ad entrare. In Corso Vittorio Emanuele, ad accorgersi dell'attentata intrusione a un negozio d'abbigliamento, sono stati i proprietari ieri mattina, intorno alle 9, orario d'apertura dell'esercizio. Sul posto sono intervenute subito le pattuglie della questura per i rilievi. Sabato scorso, ad essere preso di mira, è stato un negozio d'intimo. L'antifurto, per un problema tecnico, non ha lanciato l'allarme e così anche a un bar in San Lorenzo, sempre lo scorso weekend. Un problema grosso è quello dei taccheggiatori, i ragazzi di lodi, i ragazzi stranieri, non c'è differenza. Abbiamo sistemi anti-taccheggio, ma vengono eslusi puntualmente. Ci portano via la roba sotto il naso, senza che ce ne accorgiamo. In alcuni negozi di Corso Roma, almeno un giorno alla settimana, abbiamo pattuglie della Polizia in azione per questo problema. Grazie per l'attenzione, Quotidiano TV termina qui e io vi ricordo gli appuntamenti serali alle 19.30 e alle 22. Buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.